Sono co-ideatrice e direttrice di questo festival insieme a Cristina Siveritaliabue che condurrà stasera l'incontro. Il progetto è un progetto che è nato in seno a Iole Film e alla Svolta ed è nato da un incontro. Iole Film, anzi Fabbrica del Mondo e La Svolta hanno sostanzialmente la stessa età. Si potrebbe dire che sono coscritti. Fabbrica del Mondo, molti di voi l'hanno visto, immagino se siete qui, è andato in onda per la prima puntata l'8 gennaio di quest'anno e il quotidiano La Svolta è andato online a gennaio di quest'anno. Quando noi ci siamo conosciuti, Cristina mi ha detto che di tutte le trasmissioni televisive, Fabbrica del Mondo era quella in cui aveva riconosciuto l'idea che lei voleva mettere nel quotidiano. Io avevo riconosciuto nel quotidiano qualcosa di quello che noi cercavamo di dire, di fare, di far arrivare con Fabbrica del Mondo. L'idea del festival è nata parlandoci e abbiamo detto facciamolo e quindi anche il nome, gli incontri della Fabbrica del Mondo è esattamente questo, è un incontro. Fabbrica del Mondo voleva uscire dalla televisione, incontrare il proprio pubblico perché senza il pubblico non ci sono le storie e quindi non c'è il senso del nostro lavoro. La Svolta voleva uscire dall'online e incontrare il pubblico e quindi questa è la ragione per cui vi abbiamo invitato qui e vi abbiamo chiesto di stare con noi qualche ora. Io vorrei ringraziare l'amministrazione che ci ospita perché l'hanno fatto con una dedizione difficile da raccontare ma credetemi davvero importante e l'associazione Villa Draghi che si occupa della cura di questo spazio che è stato restituito alla comunità e lo fa con un amore pari a quello che ciascuno ha per il proprio fazzoletto di giardino. Però è bene pubblico e ci mettono veramente il cuore, ci hanno aperto le porte del loro cuore. Detto questo vi dico solo che ci sono dei posti liberi qua davanti, i relatori non li stanno usando, useranno le poltroncine quindi sedetevi, noi ci rivedremo dopo per un brindisi tutti insieme nella pausa tra la fine di questo panel e la chiusura di questa sera. Buona serata. A me? Non all'assessore? Ah ok. Prego i relatori di accomodarsi nel frattempo, non so se il nostro assessore voglia dire qualcosa, due parole? No? Neanche benvenuto oggi? Ieri come oggi, domani per domani? Una banalità assoluta, un grande saluto da parte dell'amministrazione comunale e ovviamente vi porto i saluti anche del nostro sindaco Riccardo Mortandello, credo che sia lì per arrivare e vi ringrazio della partecipazione, anche questa sera, la seconda serata vedo che abbiamo una folta partecipazione di pubblico, molto interessato, quindi per noi questi eventi sono importantissimi perché sono un elemento fondamentale di arricchimento del contributo culturale e della crescita del territorio, per cui grazie ancora e buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie. Allora invito a, come dire, sedersi Telmo Pievani, prima filosofo, ok, Alice Pomiato, ambientalista, Gianfranco Bettin, saggista, e infine Maria Scoglio, autrice. Come volete, io mi siedo, se riesco a salire sul gradino. Allora, bene, benvenuti a questa seconda giornata, non di lavori ma direi di incontri, di approfondimenti. Oggi, non so se avete letto il programma. Oggi parliamo di una cosa un po' così, no? Che cercheremo di mettere in lizza, cercheremo di mettere un pochino di pepe all'interno di questo dibattito. Parliamo di qualcosa che a me ha sempre interessato molto e di cui ho anche scritto abbastanza, ma che insomma vede fazioni diverse l'uno contro l'altro armarsi, perché di fatto parliamo di impronta ecologica. E questa impronta ecologica ha visto in realtà generazioni spesso confrontarsi, confrontarsi anche in maniera molto animata. Perché? Perché di fatto le ricerche raccontano in realtà, ci sono degli istituti di ricerca che hanno fatto fiorra di studi sul fatto che l'impronta ecologica delle generazioni cosiddette boomer o comunque dei nati negli anni 40, 50, fino agli anni 60, il periodo del boom economico, hanno inquinato dalle 6 a 10 volte di più rispetto che le giovani generazioni. E non solo questo, in realtà pare che, adesso io poi vi guardo, non so quanti hanno i capelli bianchi qui e invece quanti no, e non voglio diciamo contare i giovani e i non giovani. Però è chiaro che in media i giovani che ci sono qua sanno molto meglio dei non giovani gestire la propria impronta quotidiana. Sanno come comportarsi nei confronti di quello che lasciano, no? Ogni giorno intorno a sé. E hanno una consapevolezza molto molto più forte rispetto che ai loro genitori. E quindi sanno in qualche modo anche e potrebbero forse insegnare loro in realtà ad essere, ed è per questo un po' che su questo palco vedete capelli bianchi non come ieri, come oggi. E non è soltanto perché il futuro è una questione loro, è proprio perché in realtà, come ci raccontava Bruce Sterling, è proprio quando si è giovani il momento di parlare. E quindi ieri ci ha fatto una bellissima lezione su questo tema, sul fatto che non bisogna avere paura a giocarsela tutta proprio quando si è giovani. Perché di fatto è proprio il momento in cui bisognerebbe lasciare la propria impronta e il proprio ricordo. E perché è il momento in realtà in cui si dicono le cose giuste. Quindi io lascio la parola a Telmo Pievani che fa un'introduzione sul tema e siamo onorati di averlo qui con noi. Non la chiameremo una lezione, però io professore universitario comunque è certamente un divulgatore, lo leggiamo e racconta ai grandi ma anche ai piccoli in realtà tramite dei libri, tra l'altro qui sotto in libreria avete modo di trovarli e di leggerli su che cos'è l'ambiente. E non soltanto questo. Quindi è forse il primo che ha provato a mettere insieme scienze diverse e raccontarlo in maniera non da divulgatore, però sì insomma non popolare, però sì insomma come raccontarlo a tutti in maniera chiara. Quindi Telmo ti lascio la parola e poi dopo insomma darai il nostro racconto di oggi. Volentieri, grazie, buonasera a tutti, grazie Cristina, grazie per questa occasione. Sono felicissimo di tornare a discutere di questi temi con Marco, con tutti voi, con le amiche e gli amici della fabbrica del mondo. Dunque generazioni, mi ha detto Cristina, impronta ecologica nel tema di questa serata. Allora io venendo qua ho pensato a quali proposte avrei fatto se questa fosse stata una delle nostre sessioni di preparazione di una puntata della fabbrica del mondo, che erano meravigliose perché incrociavamo un sacco di idee, di spunti, buttavamo via cose, poi recuperavamo storie. E se la puntata fosse stata appunto sul passaggio delle generazioni su impronta ecologica, mi è venuto subito a pensare che avrei proposto di mettere in televisione, in qualche modo di raccontare in televisione quella che secondo me resta la domanda più difficile, alla quale è più difficile rispondere rispetto al passaggio generazionale. L'ha inventata una volta un grande antropologo, si chiamava Gregory Bateson, che amava a scrivere questi fulminei metaloghi, come li chiamava lui, e ce n'è uno molto bello in cui, semplicissimo, lui si immagina un padre, un figlio, il figlio piccolo sta giocando accanto al papà. A un certo punto il figlio si illumina e chiede al babbo, senti papà, ma i padri sono sempre più saggi, esperti e preparati dei figli. Il babbo naturalmente dice, ebbè sì certo, hanno studiato, sanno tante cose, sì ne sanno di più, sono più esperti. Il bambino torna a giocare, sta lì, ci pensa su, qualche minuto poi dice, senti papà, chi l'ha inventata la macchina a vapore? E papà dice, James Watt naturalmente. Il bambino si fermato e dice, ma perché non l'ha inventata il papà di James Watt? Ora, voi sorridete, però provate a rispondere a questa domanda, è difficilissimo, ancora oggi noi che studiamo questi modelli non sappiamo rispondere a questa domanda, perché non l'ha inventata il papà di James Watt, visto che era più esperto, studiava, era più adulto, ok? Se noi riusciamo a rispondere a questa domanda si capisce anche un po' forse di punto su cui volevo poi chiudere, cioè la speranza che noi abbiamo del fatto che le prossime generazioni siano native di un mondo diverso, che noi lasciamo a loro in eredità, più difficile da abitare, più instabile, più costoso, più particoloso, ma forse proprio perché sono nativi di un mondo diverso scopriranno quella macchina a vapore che noi, cioè i loro padri, oggi non riusciamo nemmeno ad immaginare, che è quel contenuto di serendipità che c'è sempre nel passaggio da una generazione alla successiva, per cui i nostri padri scientifici, i nostri nonni scientifici, 30-40 anni fa non avevano nemmeno immaginato quello che noi abbiamo scoperto nella nostra generazione, questo è un primo elemento che mi sarebbe piaciuto discutere. L'altra citazione che mi è subito venuta in mente quando si parla di passaggio generazionale, invece è una storia che ha raccontato Jared Diamond, un grandissimo antropologo, che è ancora attivo, che lavora in California, il quale in un libro molto bello che si intitola Collasso, che mi invito a leggere, racconta di come è finita la cultura dell'isola di Pasqua, che sapete che è finita ben prima che arrivassero i colonizzatori, si è auto sostanzialmente, si sono tagliati il ramo su cui appoggiava la loro storia evolutiva e verso la fine di quel racconto Jared Diamond si chiede, ma cosa diavolo avrà mai pensato l'indigeno Rapanui, il nativo Rapanui, che ha tagliato l'ultimo albero sull'isola di Pasqua? Perché sapete che è stata una questione di sfruttamento eccessivo delle risorse? Cioè una domanda che è legata alla fine di una generazione. E l'altro spunto che mi è subito venuto in mente, l'ho letto qualche giorno fa e mi ha colpito molto, mi ha anche rattristato molto, perché è stata raccontata malissimo, ed è una storia che noi conoscevamo già, perché avevamo dei contatti di antropologi che lavoravano in quella zona, forse ne avete sentito parlare tre giorni fa, presentata come è morto l'uomo più solo della terra in Amazzonia. E lo so, l'ho fatto tutti anche il Corriere della Sera. Ora, non era l'uomo più solo della terra e non era neanche l'uomo della buca come è stato raccontato, la quale è una storia molto particolare. Io penso che sia molto più importante capire che cosa c'è dietro quella storia, quindi vi rubo cinque minuti per ricordarvi che cosa è successo. Questo era un uomo di una gruppo, di una tribù, i Tanaru, che vivevano lungo il rio Tanaru, che è un fiume amazzonico molto importante della parte meridionale, della regione di Rondonia, della parte orientale, vicino alla Bolivia, diciamo, tra Basile e la Bolivia. Una cultura antichissima, vi dirò poi due cose. Viveva quest'uomo da solo nella foresta amazzonica, viveva spostando la sua capanna di paglia da un posto all'altro, viveva piantando mais, manioca, banane e papaya sostanzialmente, viveva di questo. Chiamato impropriamente l'uomo della buca perché come molti dei suoi compagni di quelle culture hanno questa tecnica di caccia per cui scavano una buca in fondo alla quale mettono dei paletti molto appuntiti e l'animale che ci cade dentro muore. Ma poi hanno imparato anche a costruirsi queste buche e a ripararsi nelle buche per proteggersi dalla bestia più pericolosa che gira per l'Amazzonia, che è Homo sapiens, i loro colleghi, i loro consimili Homo sapiens, quindi l'uomo della buca in questo senso. Il 23 di agosto l'hanno trovato addormentato per sempre, piuttosto serenamente, sulla sua amaca, aveva probabilmente all'incirca 60 anni e ha avuto una morte molto fortunata, ha avuto una morte privilegiata perché viene chiamato l'uomo più solo del mondo perché tutti i suoi compagni e compagni della sua cultura e della suo popolo sono stati sterminati uno a uno dal 1974 al 1996. Quando dico sterminati uno a uno non è un modo di dire, è che le spedizioni degli assassini pagati dagli allevatori illegali, dagli agricoltori, dai minatori di quelle zone, entravano nella foresta, li cacciavano come si cacciano le bestie, finché li hanno fatti fuori tutti, quindi hanno fatti fuori i figli, i genitori, tutto. Un ultimissimo gruppo di 25 sono sopravvissuti e si sono ritirati nel 95 in un altro pezzo di foresta, hanno fatto un'altra spedizione punitiva per andarli a prenderli, hanno uccisi tutti tranne questo, tranne lui, l'uomo della buca, che quindi è rimasto da solo in quel pezzo di foresta per 26 anni, ecco perché l'uomo più solo al mondo. Ora, perché questa non è una storia esotica, estiva, per farci un titolo e dimenticarsela il giorno dopo, è una storia epocale, è una storia planetaria, è una storia che ci riguarda direttamente per tante ragioni, provo a dirvene qualcuna. Se voi, voi fate, potete fare un esercizio, se voi andate su Google Map e mettete la versione fisica, quindi dove vedete dall'alto le condizioni fisiche di un territorio, cercate il rio Tanaru, lo potete fare tranquillamente, vedete nello stato di Rondonia e trovate il punto in cui, la zona in cui è morto quest'uomo e lo vedrete su Google Map, è un fazzoletto di foresta, squadrato, nel senso che ha proprio i confini quadrati, perché sono confini artificiali, quindi è un piccolo fazzoletto residuo di foresta, ai suoi confini ci sono delle strade tracciate, intanto è stata anche rovinata all'interno, pur essendo un piccolo fazzoletto ci sono anche entrati dentro e al di fuori di questo fazzoletto ci sono distese, sterminate di pascoli e di zone agricole, sostanzialmente, più strade miniere. Poi, molto lontano c'è un altro fazzoletto di foresta, poi un altro ancora, sparsi come tanti francobolli, dove una volta c'era la foresta amazzonica. È importante che lo guardiate su Google Map, perché uno pensa che quest'uomo vivesse in uno spazio sterminato di foresta, viveva presso poco come, immaginatevi, i colli euganei, che diventano una specie di isola di foresta amazzonica, attorno alla quale c'è una pianura sterminata di coltivazioni, quella è la foresta amazzonica, dove viveva, dove era ridotto a vivere quest'uomo. Una devastazione totale, no? Assoluta. Missione compiuta, diciamo, dal 1974 a oggi. Qualche volta entravano dentro questo fazzoletto di foresta, sapete, in Brasile ci sono molte associazioni che cercano di difendere i diritti dei nativi, hanno cercato di contattarlo e questo ha fatto capire chiaramente io di esseri umani non voglio più sapere, ok? Quindi mi lasciate da solo adesso, mi lasciate in pace, ed è rimasto in pace per 26 anni. Ora, è chiaro che la storia si spiega da sola, però in realtà dietro c'è uno scenario che è importante che condividiamo, altrimenti ripeto, finisce come una semplice storiella estiva esotica. Proviamo ad allargare un po' lo scenario rispetto a quest'uomo. Se voi andate sul dizionario e cercate il significato della parola genocidio, che è una parola ovviamente molto pesante, che sappiamo da tanti dibattiti che ci sono, va usata con molta cautela, però c'è scritto che genocidio vuol dire sterminio sistematico, intenzionale di un popolo e della sua cultura. Allora, i Tanaru erano un popolo e avevano una cultura, una lingua distinta dalle altre. Quindi quando è morto quell'uomo, il 23 di agosto, si è completato un genocidio, letteralmente. Non è una parolona esagerata, è esattamente quello che è successo il 23 di agosto. Se la vediamo così, forse è un po' meno una notiziola simpatica estiva, giusto? Un genocidio. Si è compiuto, si è compiuto un genocidio, è finita. Allora, già questo le rende un pochino più, forse un pochino più pesante, un pochino più importante. Però ci aggiungo ancora un altro peso. Finita la vita di quell'uomo, noi questo lo sappiamo perché lo studiamo proprio tecnicamente, finita la vita di quell'uomo, di quella singola persona lì, sono sparite per sempre una lingua con tutte le sfumature di significato che quella lingua poteva avere rispetto a quell'ambiente. Non sapremo mai il suo nome, non sapremo mai il significato dei canti rituali di tutta la sua cultura, sparita per sempre, perché l'estinzione di una cultura come l'estinzione di una specie è irreversibile, no? È per sempre, non si torna più indietro. Sparito quell'uomo, abbiamo perso per sempre tutte le sue conoscenze sui materiali che lui usava nella foresta. E voi potreste dire, vabbè, figurati se non li conoscevamo già tutti. No, per niente. Adesso si fanno i jeans biodegradabili, con un nuovo tipo di gomma, con un nuovo tipo di sostanza vegetale, che è stata ripescata da una conoscenza tradizionale amazzonica di una di queste popolazioni. Adesso noi ci facciamo i jeans che sono biodegradabili, ok? E siamo andati a prendere un'idea che loro avevano avuto già molto tempo fa. Sparito quell'uomo, non abbiamo più, non avremo mai più tutte le sue conoscenze sulla biodiversità della foresta. Anche qua uno potrebbe dire, eh vabbè, tanto ci sono gli scienziati. No, assolutamente no. Noi di quella foresta conosciamo se va bene il 20% delle specie che ci vivono dentro. L'80% non le conoscevamo nemmeno, quindi distruggendo quella foresta abbiamo distrutto l'80% di tutti gli animali e le piante che ci vivevano dentro che nemmeno avevamo ancora imparato a conoscere. Noi avevamo ancora dato un nome a quelle piante, a quegli animali. Invece lui le conosceva. Perché lui, questo lo sappiamo, questo è il tema delle generazioni, stava in quella foresta, noi lo sappiamo perché studiamo il loro DNA, ci stava da 1200 generazioni, ok? 1200 passaggi di padre in figlio, perché all'incirca quelle popolazioni lì sono arrivate circa 20, 22, 23 mila anni fa in quei luoghi. E quindi hanno avuto una lunghissima storia di coevoluzione con la foresta. Quindi pensate cosa abbiamo perso irreversibilmente con la morte di una singola persona in un luogo che ci sembra così tanto lontano da noi. È la fine non solo di una generazione, è la fine di una stirpe umana. Ma aggiungo ancora un altro tassello importante. Chi erano quelli? Chi erano i Tanaro? Perché uno dice, vabbè, è morto un uomo del gruppo Tanaro in Amazzone. No, è importante. I Tanaro erano un ramoscello, uno dei tantissimi ramoscelli di una diversificazione umana bellissima, meravigliosa, che è la diversificazione degli Amerindi. È una storia che non racconta mai nessuno. Non ce la raccontano neanche mai a scuola. Una cosa che a me fa arrabbiare quando i miei figli hanno fatto questa cosa a scuola, quando c'è Colombo che scopre l'America, no? E arriva di là e c'è tutta la storia di lui che sbarca. E non c'è mai nessuno che dice, ma che diavolo erano quelli che lui stava guardando negli occhi quando è arrivato di là? Avranno avuto un nome, no? Questi erano gli indiani. Chi erano gli indiani d'America? Erano i Cibonei, erano i Tainos che abitavano in Caraibi, che avevano una loro cultura, una loro storia e non ce la raccontano mai. Noi lo vediamo sempre soltanto dal nostro punto di vista. Ecco, i Tainos e i Cibonei erano cugini di questo uomo, i cugini degli Amerindi e sono tutte culture nate da una storia bellissima che noi abbiamo imparato a ricostruire grazie a Luca Cavallisforza, a tanti genetisti, anche italiani, in questi vent'anni. Lo facciamo anche noi a Padova un pochino ed è una storia, adesso non c'è tempo per raccontarla, ma insomma fantastica, perché dovete immaginare che 25, 27 mila anni fa piccoli gruppi di cacciatori siberiani, asiatici, sono entrati dentro l'America del Nord, che era disabitata da esseri umani, attraverso la Beringia, che era un intero continente emerso che adesso non c'è più, adesso è sommerso dalle acque, ma prima c'era tutta una terra ghiacciata che collegava l'ASE all'America e poche migliaia di esseri umani, cacciatori, raccoglitori inconsapevolmente ovviamente, inseguendo le europrede, caribù, mammut, lanosi e così via, sono entrati nelle Americhe e hanno compiuto una migrazione, la migrazione è il segreto dell'umanità, l'essere mobili, meravigliosa, perché dall'Alaska in sostanzialmente 4-5 millenni secondo i nostri dati sono arrivati in terra del fuoco. Dall'Alaska in terra del fuoco vuol dire, fateci caso, che quei cacciatori e raccoglitori siberiani sono stati capaci di attraversare, di adattarsi a tutte le latitudini terrestri, dall'Alaska, polo nord, alla terra del fuoco, vicino all'Antartide. Le hanno attraversate tutte, le hanno abitate tutte, le hanno trasformate tutte e, cosa meravigliosa, da un piccolo gruppo di siberiani che parlavano una lingua ed erano un popolo, sono venute fuori, secondo gli ultimi calcoli nostri, più di 10.000 popoli e 10.000 culture, da una sola, in pochi millenni, 10.000 lingue, 10.000 tradizioni, 10.000 canti, 10.000 modi di stare al mondo. Quindi quando muore quell'uomo lì in Amazzonia è morta una di queste culture, è morto uno di questi ramoscelli, di questa storia bellissima cominciata a 1200 generazioni fa e che aveva portato a una straordinaria diversificazione linguistica e culturale. Tanto per dare un'idea, adesso si parlano nel mondo 7.500 lingue, soltanto nelle Americhe più di 10.000 figlie di una singola migrazione. Immaginatevi quante lingue si parlavano e quante culture si parlavano fino a 5 secoli fa su questo pianeta. È un'estinzione di massa di culture che è avvenuta e che sta continuando ad avvenire. Allora finisco e torno alle generazioni. Vedete che se allarghiamo il quadro da quell'uomo scopriamo un sacco di cose interessanti. Però uno potrebbe dire, faccio l'avvocato del diavolo, ecco la solita storia romantica, nostalgica sui popoli nativi. Per niente. È triste, per niente. Io mi ricordo una volta quando ho parlato con un nativo Schuar in Amazzone, parlavamo dell'idea di progresso, noi diciamo ma voi che idea avete di progresso? Lì mi ha dato una risposta molto bella, mi dice voi occidentali, voi bianchi, pensate sempre che noi odiamo il progresso, che siamo dei conservatori. No, a noi piace un sacco il progresso, soltanto che non è il vostro tipo di progresso. È un progresso che vogliamo noi. A noi ci piacciono i vostri telefonini, li usiamo, andiamo su TikTok, però noi non vogliamo il vostro tipo di progresso, ne vogliamo un altro. E mi ha sempre colpito molto questa cosa, noi pensiamo sempre che loro siano fossili viventi dell'umanità. No, sono moderni a modo loro, perché sono modalità diverse di stare al mondo, no? Mi piace definirle a me. E hanno fatto i loro errori, sono gruppi pieni di conflitti, pieni di contraddizioni. I nativi di cui vi ho parlato adesso, cioè questi che sono scesi nelle Americhe, quando sono scesi giù, hanno trasformato il mondo, lo hanno devastato per certi aspetti. Quando arrivavano questi cacciatori abilissimi, hanno per esempio portato all'estinzione tutti i mammiferi di grossa taglia che c'erano nelle Americhe. non erano dei buoni, come dire, che rispettavano perfettamente l'ambiente, altro che erano dei cacciatori estremamente aggressivi. Hanno portato all'estinzione 95 specie di grandi mammiferi. E, ironia della storia, l'hanno pagata molto cara, molto tempo dopo, perché quando poi arrivano gli euroasiatici nelle Americhe, portano il morbillo, il tifo, il vaiolo, il colera, la peste e fanno milioni di morti, perché loro, gli Amerindi, non avendo più avuto mammiferi di grossa taglia con i quali scambiarsi questi agenti patogeni, perché se li erano mangiati tutti i loro antenati 20 millenni prima, non avevano difese nel sistema immunitario rispetto a questi microbi, questi agenti patogeni. Quindi l'hanno pagata molte migliaia di generazioni dopo, questa estinzione di massa dei mammiferi. Lo stesso hanno fatto gli aborigini australiani, gli antenati dell'aborigine australiani, hanno cambiato il mondo. E questa è la mia risposta, diciamo, al tema del passaggio generazionale. Spesso dice, ma qual è la chiave evolutiva per capire l'impatto, l'impronta ecologica? È che noi esseri umani da sempre cambiamo il mondo. Noi dove arriviamo lasciamo il segno, lasciamo un'impronta. L'impronta ecologica l'hanno lasciata anche gli antenati di quell'uomo, il Tanaru, che è morto il 23 di agosto. Qualche mese fa è uscito, aggiungo solo quest'ultima cosa, Cristina poi lascio subito la parola. È uscito sei mesi fa, è uscito un lavoro che io subito l'avrei raccontato alla fabbrica del mondo, se ne avessimo avuto la possibilità. È un paper molto bello, è uscito su Science, con un titolo molto provocatorio, che ha fatto tanto discutere. Il titolo è E se la natura vergine fosse un mito? Perché questo titolo? Perché è un lavoro enorme di statistiche, di big data, dal quale si scoprono, la faccio breve, due cose fondamentali. La prima è che ci hanno sorpreso tanto. La prima è che già 12-13 millenni fa, durante la transizione neolitica, il mondo era popolato appunto di tanti popoli che si erano dispersi in tutto il pianeta. E pensate che già allora meno del 20% della superficie terrestre era disabitata, cioè era priva di esseri umani. Questo vuol dire che già a quel tempo noi esseri umani, attraverso proprio quel meccanismo che vi ho spiegato prima di ramificazione e di occupazione di tutte le nicchie ecologiche disponibili, avevamo occupato tutto il mondo, tranne i deserti e le parti montane più impervie. Eravamo arrivati al polo nord. E questo è particolare perché segue poi una conseguenza. E cioè che già a quel tempo gran parte del mondo era abitato da esseri umani e allora e ancora oggi i luoghi della terra dove c'è più biodiversità, cioè che mantengono il maggior numero di piante animali, non sono luoghi senza esseri umani, ma sono luoghi in cui c'è stata anzi una lunga convivenza, in quell'articolo dicono una lunga manutenzione, tra gli esseri umani che abitavano in quei luoghi, che hanno imparato a vivere in quei luoghi e a fare manutenzione, avere cura di quei luoghi. La foresta amazzonica a noi sembra un luogo intatto, vergine, pristino come dicono gli inglesi, in realtà non lo è affatto, nel senso che è un luogo plasmato dagli umani, anche quello da tantissimo tempo, appunto da 1200 generazioni. generazioni, lo sappiamo dai dati del DNA ambientale, insomma dalle ricerche che facciamo noi. Nature ha pubblicato un articolo che sembrava impossibile fino a qualche anno fa, in Amazzonia migliaia di anni fa c'erano città, c'erano civiltà urbane, non è vero che era un luogo che non era possibile coltivare, perché l'uomo cambia il mondo, cambia il mondo, rende il terreno coltivabile, lo trasforma. E questo anche per l'ambientalismo del futuro, secondo me, è una cosa importante, perché forse abbandonare questa idea che il gioco sia tra conservare una natura pura e vergine, che forse in realtà non è mai esistita, e invece, o anche se vogliamo, l'idea che dobbiamo ritrovare un modo per convivere, per starci dentro quella natura, non semplicemente per blindarla, per sterilizzarla dagli esseri umani, ma per starci dentro in un modo completamente diverso da come ci siamo stati dentro nell'ultimo periodo. Cioè uscire un po' da questa dicotomia tra ecocentrismo e antropocentrismo, nel senso che forse gli interessi della natura sono proprio gli interessi nostri, cioè coincidono gli interessi, e che, come piace dire a me, l'impegno ecologista del futuro è un impegno umanista, nel senso che è un impegno non contro gli esseri umani, ma è un impegno per gli esseri umani e per le future generazioni, ma provare a uscire un po' da queste contrapposizioni ideologiche che hanno un po' ingessato anche il pensiero ambientalista per tanto tempo. E questi dati scientifici ce lo dicono, vedete, in modo non romantico, non nostalgico, non è una difesa di popoli che saggiamente vivevano con la natura. No, noi siamo una specie contraddittoria, loquace, invasiva, da un sacco di tempo, dall'inizio, da quando abbiamo cominciato a uscire dall'Africa. E siamo una specie ambivalente. Ambivalente perché? Perché ho finito davvero, quando siamo usciti dall'Africa, gli antenati di questi che sono arrivati in Asia hanno fatto due cose. Faccio questo esempio estremo e poi finisco con una domanda che lascio aperta. Escono dall'Africa e poi, dopo fanno un grande viaggio, arrivano anche nell'America e in Australia. Quando escono dall'Africa, io ho in mente due punti dove questi gruppi umani, immaginatevi dei cacciatori raccoglitori africani, quindi con la pelle scura, molto slanciati, alti, ottime tecnologie, molto mobili, migranti e piuttosto invasivi. Uno di questi gruppi va a vivere nell'Artico, va a vivere in Russia, nella Russia di oggi, nella Siberia Artica, nella foce del Fumi Enisei, a meno 20 gradi sotto zero. Un altro gruppo va sulla Uesi, a 40 gradi, una umidità pazzesca. Il primo gruppo caccia mammut lanosi in un modo molto aggressivo, ben organizzato, l'altro gruppo fa pitture rupestri meravigliose. Sono lo stesso popolo, sono lo stesso gruppo, sono tutti africani. Uno va a vivere al Polo Nord a meno 20 gradi sotto zero, l'altro fa pitture rupestri a 40 gradi ai tropici. Nessun animale fa una cosa del genere. Nessun altro animale gli viene in mente di nascere in Africa e di andare al Polo Nord. E cosa c'entrano le generazioni? Perché c'è un dibattito nel mio campo di studi e la domanda è, ma scusate, la densità di popolazione era bassissima, c'erano risorse per tutti, chi diavolo glielo faceva fare di andare a campare a meno 20 gradi sotto zero? Provate a rispondere a questa domanda, è difficilissimo, non capiamo, perché bastava dagli Enisei scendere giù lungo il fiume e arrivavi sui monti Altai e c'era un paradiso di rinoceronti lanosi, di mammut, di acqua, acqua, tutto, c'era tutto. Perché andare a meno 20 gradi sotto zero a campare in un inferno solo di mammut, tra l'altro, perché poi del mammut non si buttava via niente, quindi si usava tutto e vivivano solo di mammut. Un mio collega forse ha dato la risposta, l'unica risposta che io ritengo plausibile, si chiama Ian Tattes, che lavora all'American Museum di New York, mi ha detto, guarda Telmo, secondo me la risposta è questa, non posso dimostrartelo, ma io penso questo, ed è il passaggio generazionale. Cioè, questi qua si spostavano piano piano da una generazione alla successiva, no? E inseguendo le risorse alla fine andavi su, su per quel fiume, fino a vivere in un posto così estremo. Quelli che nascevano alla generazione successiva pensavano che quella fosse la loro casa, punto. Non pensavano che c'era una storia dietro di migrazioni, per loro quella era casa, vivere di mammut a meno venti gradi sotto zero. Quelli, dice Tattes, siamo noi esseri umani, noi diciamo casa quello in cui siamo nati, non quello in cui siamo nativi di. E quindi alla fine abbiamo, senza accorgercene, invaso e occupato tutto il mondo. Quindi anche questo è un gioco, forse, generazionale, che ci ha portato a fare delle cose veramente strane che nessun animale fa. E quindi vedete come il passaggio generazionale per noi è come il ticchettio di un orologio che ci permette di imparare un sacco di cose, dalle migrazioni degli amerindi, fino a perché gli esseri umani cacciavano mammut a meno venti gradi sotto zero quando potevano stare molto meglio altrove. E questo mi taccio veramente. E vi ringrazio. Grazie Telmo, davvero un bellissimo racconto. Mi ricordo nel 2002 appunto, ieri abbiamo parlato di futuro, tu parlavi di progresso, diverse idee che abbiamo di progresso. Nel 2002, uno di quegli istituti internazionali di ricerca che ogni tanto arrivano e dicono questa cosa si fa così, le parole che vogliono le persone sono queste, la chiave di lettura del futuro è questa qua. E mi ricordo che nel 2002 appunto loro dicevano che la parola futuro era assolutamente da non utilizzare perché le persone avevano paura di questa parola, proprio non erano in grado di interpretarla e che quindi negli spot pubblicitari, nella comunicazione, nei titoli, nei giornali non bisognava assolutamente parlare di futuro, bisognava utilizzare dei termini più tecnici in modo di entrare nell'innovazione, nella tecnologia, nei vari filoni, però non bisognava dire questa parola. Se pensiamo che invece adesso sono passati 20 anni e siamo tutti qui in realtà a pensare e ragionare intorno al futuro, il futuro è proprio una cosa che ci interessa molto e forse ci interessa proprio molto anche per la questione generazionale appunto, perché la interpretiamo in questo senso. Quindi grazie, una bella lezione di filosofia scienza, poi io tra l'altro invito le persone che vogliono intervenire e anche a intervenire liberamente perché davvero anche secondo la concezione della fabbrica del mondo questo è veramente un posto dove dialogare insieme, quindi io faccio delle domande sicuramente alle persone che sono qui con me perché sono delle persone che hanno da raccontare, però nulla vieta in realtà voi di alzare la mano e di intervenire, qui non c'è nessuno che ha la sfera di cristallo. Tu anche ieri però, prima facciamo parlare alla ragazza giovane se non ti spiace e poi dopo ti facciamo intervenire assolutamente, ma anche per una questione di genere proprio, oltre che di generazione, quindi cerchiamo di dare la parola. Io volevo far parlare Alice Pomiato perché in realtà lei è un'ambientalista e una divulgatrice, io l'ascolto, diciamo parlare dei temi che ci stanno a cuore e sono sempre molto affascinata da come lei riesca in realtà a interpretare un po' il precipitato di cose anche complesse, di concetti anche complessi e spiegarli in maniera semplice perché ha questa passione della divulgazione e tutti noi in realtà che siamo qua abbiamo la passione un po' appunto del racconto e della divulgazione ovviamente poi per come ciascuno può fare, però un po' il problema che c'è rispetto alle generazioni e rispetto all'ambiente è proprio il fatto di insegnare l'ecologia sin da quando si è molto piccoli. L'ecologia non è soltanto che non bisogna buttare via la carta, sono tutta una serie di concetti che in realtà bisognerebbe narrare in maniera semplice ma anche onesta, trasparente, forse brutale certe volte, ma che invece non si riesce a fare. Quindi posto che appunto sicuramente dei bambini, dei ragazzi che oggi fanno le scuole medie superiori ne sanno di più rispetto a quelle della mia generazione, quali sono i passi che in realtà abbiamo ancora da fare per cercare di ampliare la divulgazione e raccontare meglio le cose in modo che siano digerite anche dai genitori e non soltanto dai ragazzi a cui le raccontiamo. Grazie Cristina. Non so bene da dove collegarmi perché anche te vi ho detto parecchi punti che vorrei riprendere. Forse vorrei partire da questa ambivalenza tra ecocentrismo e antropocentrismo di cui parlava per il fatto che forse io partirei e da dove parte la mia divulgazione è il ricominciare a pensarsi come solo una forma di vita trattante su questo pianeta. Il fatto che noi abbiamo avuto sempre la forza e la potenza di cambiare i posti dove stiamo andati, l'ambiente eccetera, ci ha permesso di avere un'impronta ecologica veramente pesantissima nei confronti di tutto quello che appunto evita oltre di noi specie vegetali e animali. E quindi il mio voler divulgare questo parte dal prova a ripensarti tu come una vita trattante e prova a non avere un'impronta ecologica così pesante. Però il mio approccio è anche sistemico perché la divulgazione che viene fatta intorno alla sostenibilità oggi in Italia, nel mondo, ma forse in Italia, parliamo dell'Italia, la trovo un po' problematica perché parla in modo molto limitato all'individuo e alle azioni che il singolo può fare per ridurre la propria impronta ecologica. Si parla di azioni quali, l'abbiamo visto in quest'estate torrida, chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti, cose che dovremmo dare per scontato a tutti quanti, oppure fatti delle docce più corte, usa meno la macchina eccetera. E questo modo di comunicare va sempre a parlare a delle persone che chiaramente devono responsabilizzarsi nella loro vita quotidiana, nessuno va deresponsabilizzato, ma le distraggono da un quadro generale sistemico che va completamente rivisto perché se stiamo vivendo una crisi climatica siamo a questo punto perché abbiamo un sistema produttivo, un sistema economico, politico che va rivisto perché continua ad agire come se su questo pianeta esistessimo solo noi e come se le risorse da cui attingiamo da anni fossero infinite e questo non va bene. Per quanto riguarda le generazioni più piccole ho visto recentemente forse il TED di Telmo, mi sono aggiornata perché volevo capire con chi condivideva il palco e lui ha parlato di nativi climatici in un TEDx. La mia generazione, io ho 30 anni, sono una nativa digitale e invece i ragazzi più giovani saranno dei nativi climatici. Loro nasceranno in un mondo che noi gli stiamo lasciando così e dovranno imparare ad adattarsi, a progredire, a innovare cercando di salvare la propria pelle e quella di tutto quello che è vita oltre di noi su questo pianeta. Ed è un grande impegno quello di unire le forze a tutti i livelli che siano istituzionali, governativi, degli enti, dei singoli per fare in modo di fare educazione e formazione su queste tematiche perché la verità è che non la si fa mai abbastanza. Io arrivo da quattro giorni di formazione per educatori e formatori sui temi dell'educazione ambientale ed ecologica e mi sono confrontata soprattutto con persone che lavorano nelle scuole primarie e secondarie e dai colleghi vengo a sapere che il Ministero dell'Istruzione fornisce delle ore di educazione ambientale e civica che vanno incastrate nel programma scolastico che già c'è e a fare queste ore di lezione sono dei professori, delle maestre che non sono state formate, che devono autonomamente apprendere nozioni, informarsi per poi trasmetterle ai ragazzi. E come le trasmettono? Sempre con un approccio che sì, ovviamente stiamo parlando di bambini quindi dobbiamo un po' calibrare il tutto, ma con un approccio che è sempre ricicla così, usa così, insomma c'è sempre un approccio molto dedito a quello che noi possiamo fare oggi nella vita di tutti i giorni senza creare un quadro generale, un approccio sistemico che serve a questi ragazzi ad avere una visione a 360 gradi e ad affrontare il mondo e tutte le sue sfide. Ma anche senza sconvolgere troppo? Dicevo ma anche senza sconvolgere troppo una cosa magari, no? Cioè nel senso sì fai così e così perché così è semplice, però poi no? Rivedere anche il frame della questione, no? Quindi sì la carta, sì la plastica, però no? Sì, cioè questo è il modo più semplice, cioè ovviamente noi lavoriamo e possiamo agire nel nostro perimetro quotidiano e quindi vogliamo le azioni pratiche che possiamo mettere in atto tutti i giorni, però ci dimentichiamo che se invece riuscissimo ad essere un gruppo coeso di persone che chiede dei cambiamenti che sono più radicali, che sono più sistemici e che programmano a lungo termine, noi non dovremmo essere sempre i martiri che si tolgono cose, che poi ci dà l'idea di essere un compito molto pesante sulla nostra quotidianità, perché ognuno di noi ha una vita con tutte le sue cose a cui pensare, però potrebbe essere molto più semplice per tutti quanti, avere degli obiettivi comuni da raggiungere, adesso io ho un po' divagato rispetto alla domanda che mi avevi fatto, però sì l'educazione ambientale va fatta a tutti i livelli e spesso anche lo sanno i genitori, quello che i ragazzi imparano a scuola lo portano a casa e c'è una contaminazione che è necessaria e fare educazione ai ragazzi è importantissimo perché per loro non dovrà essere difficile quanto lo è per noi adesso cambiare mindset, cambiare modo di vedere le cose, cambiare abitudini, perché noi man mano che progrediamo con l'età sembra quasi che stiamo bene nella nostra comfort zone e nelle nostre idee ed è difficile cambiare tutto questo e dobbiamo fare in modo invece che per loro sia da nativi climatici molto più semplice farlo e dobbiamo lasciarci insomma contagiare da questo. Un aneddoto a conferma di questo, a maggio c'è stato un convegno internazionale sul clima, dibattito ovviamente, quadro della situazione, facciamo la conferenza stampa alla fine e ovviamente classica domanda del giornalista. Bene, stante questa situazione cosa dobbiamo fare? È un climatologo inglese, bravissimo, la guarda negli occhi e fa tutto. No, tra l'altro lì prima mi stava raccontando che nel momento in cui si prova a insegnare ai bambini a spiegare per esempio la carne, la questione della carne, cosa è la carne che stai mangiando oggi? Che la carne in realtà è parte di un animale che era vivo, quindi è così, c'è dei genitori che magari poi un po' si arrabbiano per questa cosa che non bisogna associare esattamente la carne che stai mangiando col fatto che prima c'era una mucca eccetera e non sia mai. Questo è un po' scioccante se vuoi perché insomma sono cose abbastanza complesse da scardinare nella nostra mente. Un'altra delle ricerche scusami che mi capita ovviamente facendo un giornale di questo tipo che mi è capitato di leggere era la questione appunto parlavi delle abitudini, della prossimità. Le persone fanno fatica a cambiare i propri atteggiamenti, quindi ci sono tutta una serie di abitudini molto molto complesse, adesso non stiamo facendo le lezioni a nessuno, ne vogliamo fare prese di coscienza, però è difficile anche per le persone muoversi e fare dei movimenti, cioè laddove una cosa è più semplice ed è vicina, allora è più facile. Laddove invece è scontato, è vero, però è importante dirla questa cosa perché se tu non sei disposto a fare dieci metri in più per buttare nella cesta gialla degli abiti e degli indumenti invece che vanno poi ad associazioni o comunque vanno all'interno di un'economia circolare che prevede il riutilizzo del tessuto in una certa maniera eccetera eccetera, ma tu invece fai altre scelte per quanto riguarda i rifiuti. In realtà non stai facendo neanche una piccolissima cosa, un piccolissimo movimento. L'altra ricerca che ho letto era stupidissima, non ha neanche a che fare per esempio con l'ambientalismo, però i cani fanno le cacche. Le generazioni in realtà che non le raccolgono non sono i giovani, non sono i giovani, sono le persone più anziane che fanno fatica a fare questa cosa qua perché tanto pazienza. pazienza, no? E invece no, è un'altra cosa importante, adesso te lo ripasso, scusate, non arrabbiatevi con me perché dico queste cose. La cosa che ha detto riguardo alla carne è un aneddoto che arriva da una persona che conosco che fa la maestra all'alimentario e una volta ha semplicemente detto ai bambini che la carne rossa, la carne bianca derivano da un animale che era vivo e che è stato ucciso per farne un prodotto e nient'altro, non si è dilungata oltre. I bambini sono andati a casa, hanno chiesto spiegazioni ai genitori, i genitori erano molto arrabbiati, non bisogna dire queste cose ai miei bambini, cioè poi non mi mangiano la carne, non fargliela sapere. Invece è giusto che i bambini sin da piccoli capiscano, senza insomma dettagli splatter o dirgli delle cose pesanti per loro da recepire, che cosa c'è dietro ai meccanismi, alle cose del mondo e soprattutto l'educazione ecologica ed ambientale deve imparare a togliersi da tutti quei limiti che ci siamo dati in un sistema che è molto normato, disciplinato, normalizzato, istituzionalizzato perché ci sono dati dei limiti che abbiamo bisogno di andarci oltre, ma su tutto il nostro modo di vedere la vita, di concepirla, il nostro modo di mangiare, il nostro modo di vedere ed è una grande sfida perché è incredibile che un animale come noi, capace di cose incredibili, faccia una fatica tremenda a cambiare abitudini. È una contraddizione incredibile. Invece ne abbiamo estremamente bisogno e penso che dalle generazioni che ci hanno preceduto dobbiamo attingere di tutto perché dobbiamo capire quali sono stati i nostri errori e di come possiamo realmente progredire vedendoci come parte del mondo che abitiamo insieme a molte altre specie che qui e ora dobbiamo salvare prima che si estinguano perché quando sono estinte sono estinte e dobbiamo ricominciare a capire che è tutto interconnesso noi non sappiamo mai che cosa succede quando si estingue una specie con una catena alimentare va a distruggersi perché le ripercussioni le vediamo solo troppo tardi e non si può rimediare. Grazie. Grazie. Anche lei ha messo insieme filosofia e scienza e ne approfitto visto che stavamo appunto parlando in realtà di scuola, di educazione e di parlare ai nostri bimbi perché ci sono dei modi che sono dei modi diretti di dire le cose appunto molto lineari e ci sono invece dei modi che sono anche quelli della fabbrica del mondo se ci pensate se avete visto la trasmissione che insomma mettono insieme in realtà il racconto di quello che accade con anche la passione forse della narrativa e quindi questo questo tentativo alla fine un po' il teatro di narrazione è questo ma se dovessimo applicarlo a invece qualcosa di scritto magari a un testo a un racconto che deve coinvolgere come sarebbe questo tipo di racconto qual è il modo migliore per coinvolgere i bambini e per far sentire loro che è giusto fare una cosa non dicendogli che devono farla e qui lancio la domanda a Maria Scoglio che in realtà è una scrittrice quindi non è un segreto in realtà con me ha scritto un libro e adesso esce il prossimo tra 15 giorni libro per bambini quindi una collana di libri per bambini il primo mi dire ha trattato il tema della costituzione il secondo che uscirà sarà sulla parità di genere e il terzo sul tema ambientale ma già le parlo come a un'amica come interlocutrice perché in realtà essendo un'autrice anche televisiva il racconto della fiction è molto molto nelle sue corde quindi come raccontare le cose ai bambini in modo che possa essere coinvolgente però al tempo stesso possa essere efficace ecco allora la mamma Maria direbbe che non sono riuscita a fare leggere il mio libro il nostro libro ai miei figli quindi lo so ma non lo so è un secondo me ecco sentendo parlare di di modi di stare insieme mi viene in mente che poi noi nasciamo come un'attribù che si cementa con il racconto con il racconto attorno al fuoco con il racconto orale con il racconto poi scritto e con il racconto radiofonico con il racconto televisivo con tutte le forme di racconto che le tecnologie poi via via hanno reso di massa io oggi mi dedico alla scrittura la scrittura di libri di fiction cartoni animati sto variando linguaggi ma ho lavorato tanti anni in televisione ultimamente l'ultimo mio lavoro era per sky e negli ultimi anni cinque anni fa era praticamente impossibile quando facevamo i focus group volevamo capire il quindicenne la serie televisiva se gli era piaciuto o no che cosa preferiva ancora la guardava era impossibile trovare un quindicenne che guardava la televisione oggi i politici sbarcano su tiktok cercando di fare delle improbabili sceneggiate masticando dei linguaggi che non conoscono e peraltro senza nemmeno rispettare minimamente il pubblico a cui si rivolgono prendendoli credo per dei non lo so sì non voglio entrare in politica però mi sembra che è una cosa che comunque è più che bipartisan stanno facendo tutti e stanno assolutamente dimostrando che come i ragazzi non usano i medi tradizionali la nostra generazione non sa assolutamente cosa piace cosa efficace come comunicare quindi io direi che quando appunto riflettevo sul tema cioè vogliamo superare un conflitto tra generazioni è possibile farlo io ripartire quello che forse va ricucito è un racconto collettivo che forse una volta era più facile anche perché stavamo più insieme fisicamente oggi è difficile anche che una famiglia si ritrovi nell'ascolto di qualcosa di comune perché i mezzi perché io sto sul mio instagram e il mio figlio sta sull'ipad e poi c'è mio marito che guarda magari il telegiornale ma facciamo tutti cose parallele diverse e ed ecco in fondo forse ecco la cosa più difficile è riagganciare una memoria del passato una memoria del presente e una memoria anche del futuro che si può costruire all'interno di cose che noi sappiamo che fanno bene a tutti noi cioè qualcosa di comune e non fragmentato frastagliato e come vedo che appunto questi poveri ragazzi che oggi devono andare a votare chi gli sta proponendo qualcosa chi parla loro chi riesce al di là dello strumento a proporre qualcosa che è veramente rilevante per loro perché non ci stiamo riuscendo perché perché sicuramente i partiti sanno che non conviene perché gli elettori giovani sono un quarto degli elettori che sono interessati alle pensioni quindi penso che chi si occupa di economia insomma potrebbe spiegare tutto quanto ma perché noi qual è l'egoismo che ci porta mi viene in mente no al cesti admetto admetto può scusate se faccio una cosa che non c'entra niente però nella tragedia di Euripide admetto può salvarsi dalla morte se qualcuno si offre di morire al posto suo lo va a chiedere al padre il padre è anziano ha fatto ormai la sua vita è quasi volta al termine e il papà gli dice io ti ho dato la vita io ti ho messo al mondo e quindi adesso se permette ho fatto quello che dovevo fare è un po' quello che secondo me noi stiamo facendo con i ragazzi cioè diciamo noi ti abbiamo noi vi abbiamo messo al mondo adesso poi tra un po' tocca a voi però ancora noi ci godiamo e ci godiamo quello che ci rimane stiamo sfruttando le ultime risorse non siamo in grado né di pensare a loro noi né di dire magari provateci a pensare anche voi un po' e quindi io non lo so noi ci abbiamo provato con questi libri con questa collana di libri di educazione fisica abbiamo civica abbiamo abbia anche fisica nel mio caso soprattutto abbiamo provato a narrare usare il viaggio nel tempo usare delle cose proprio molto pop per infilarci dentro delle cose a cui teniamo e comunque penso che parta tanto dal racconto cioè tanto da poter stare ascoltare una cosa insieme e poi magari poterlo dibattere ecco questo è io penso che veramente l'incapacità di una narrazione comune sia la base quindi inviterei autori gente che scrive a provare a creare qualcosa non per un target ma per per una famiglia per unire e non per dividere non per prendere quella robina lì esatto qualsiasi cosa sia famiglia voglio dire senza avere preconcetti l'idea delle generazioni stare insieme esatto questa è una bellissima sollecitazione tra l'altro io penso che nessuno ha resistito a non vedere i politici oggi che sono su tiktok sono veramente quasi ridicoli una cosa che ci ha fatto molto ci ha molto colpito perché in realtà sono entrati come si dice no a gamba tesa all'interno di un contesto che completamente non appartiene loro eh neanche chiedendo il permesso no semplicemente dicendo ok io adesso arrivo con il mio linguaggio mio e adesso tu devi stare qua ad ascoltarmi e però c'è dietro la solita scrivania il solito sorriso il solito cerone no la solita cosa ti rifilo le barzellette ma perché devi rifilare le barzellette perché e ti deve piacere questa cosa no per fortuna in realtà un po mi facevano vedere oggi come dire francesca fiore le reazioni no degli influencer tiktoker giovani eh studenti dicono guarda che noi questa cosa qua la guardiamo per ridere però in realtà non pensare di prendere il mio voto perché adesso sei qui e ti sei messo in questo posto in questo momento perché non è credibile anzi no ci fai dire abbastanza ironica se non penosa no la la cosa però insomma questo accade ed è un po in effetti quello che accade quando entriamo no in contesti che non conosciamo e non sappiamo cambiare linguaggio no è come se bussassimo alla porta entrassimo in una casa eh però ci continuassimo a comportare esattamente nella stessa maniera ehm di prima no non sappiamo cambiare linguaggio o forse non sappiamo neanche avere l'umiltà no lo dico di noi tutti perché in realtà quindi anche io sono madre e sicuramente mio figlio ha un linguaggio diverso prende da me ma al tempo stesso mi direi io non prendo da lui quindi vabbè come non succede sul linguaggio non succede sui temi cioè il tema ambientale è che è l'unica cosa forse insieme alla scuola che interessa i giovani a chi si eh a chi voterà per la prima volta è un di cui un insomma nel programma di dei dei partiti è insomma ovviamente ha un peso è conflitto generazionale anche in questa campagna elettorale nel senso che stiamo un po facendo finta che non esista però in realtà c'è il conflitto generazionale è nel fatto che non si parla alle nuove generazioni nel momento in cui si parla a queste generazioni si parla eh in realtà di temi veramente poco interessanti perché poi alla fine sui temi economici si parla alle vecchie generazioni cioè quelle in cui i voti contano veramente alle nuove generazioni un po' si dice sì sì sceglimi perché sono simpatico e poi dopo mi occuperò un po' delle tue cose in effetti il tema dell'ambiente è completamente assente no? Eh come dire sì insomma abbastanza diciamo assente eh dalle promesse elettorali eh tu cosa ne pensi eh diciamo in quanto saggista che idea ti sei fatto perché ovviamente la politica la conosci no? Quindi è un linguaggio che hai utilizzato e quindi da una parte ha scritto un bellissimo saggio eh nella rivista che non so forse avete trovato l'ingresso sull'antropocene quindi ovviamente ehm c'è anche questo di cui possiamo parlare però non posso non chiederti cosa ne pensi in quanto persona impegnata in politica da tanti anni. Penso che intanto bisogna evitare le generalizzazioni. Per esempio io trovo un po' improprio parlare così di generazioni eh le generazioni sono diverse naturalmente l'una dall'altra ma dentro le generazioni ci sono forti diversità. In un paese come l'Italia per esempio almeno da diciamo dal dopoguerra in poi la maggioranza delle giovani generazioni ogni volta era piena di conformisti e probabilmente è così anche adesso. Una parte in certi periodi un po' di più in altri periodi un po' di meno era anticonformista, metteva in discussione i principi ordinari prevalenti nel suo tempo o quella generazione e quindi io distinguerei. C'è gente che si farà sicuramente abbindolare su TikTok dai politici di cui avete parlato. Berlusconi ha avuto un grande successo molto meno Renzi ma lì è questione di capacità. Poi TikTok mica l'hanno inventata due adolescenti no? Cioè è un'industria come Facebook, come gli altri social. Cioè di cosa stiamo parlando? Le generazioni sono diverse al loro interno e in genere in un paese come l'Italia e in molti altri paesi occidentali la maggioranza di ogni giovane generazione è fatta di gente come quella che fra 20 giorni metà del paese che vota voterà gente che non crede al cambiamento climatico, non solo non crede ma lo irride e irride chi parla del cambiamento climatico, anzi correttamente del surriscaldamento climatico e ancor meno crede e ancor più irride e contesta chi parla della responsabilità umana nel surriscaldamento climatico. Quindi di cosa stiamo parlando? Non di generazione, parliamo di gente che deve assumersi la propria responsabilità e a cui va imputata una responsabilità da parte di chi ha una visione critica. L'idea di dissolvere la responsabilità per esempio attribuendo alla generazione più egoista dell'umanità come per certi versi giustamente anche si scrive nell'apertura di questa discussione di questi giorni ovviamente ha un senso in un certo modo, in un altro senso però corrisponde all'idea di generalizzare una responsabilità che appartiene specificamente a un modello di sviluppo che ha delle ragioni storiche che ha delle dinamiche storiche che vanno riconosciute e denunciate. Non è che aveva 60 anni l'uomo più solo del mondo circa, non è che quelli che avevano 60 anni o 50 o 40 quando lui aveva quell'età lì appartenendo alla stessa generazione hanno la stessa responsabilità. Non è che mio padre che è crepato beccandosi un cancro alla Colecisti lavorando ai reparti del CVM di Porto Marghera ed era coetaneo di Cetis, padrone di quella fabbrica, ha la stessa responsabilità di Cetis. Quindi o noi che siamo cresciuti attorno al polo chimico abbiamo la responsabilità di chi lo ha costruito anche se avevamo la stessa età via via che poi crescevamo. Quindi la prima cosa, secondo me, è riportare la discussione anche sull'educazione, eccetera. Diciamo così, avendo l'attenzione di fornire gli strumenti per una lettura critica naturalmente adeguandosi all'interlocutore, al pubblico di interlocutori, i bambini, gli adolescenti, quelli di TikTok, quelli del telegiornale appunto. E quindi modulando sicuramente i linguaggi ma avendo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza anche da dove avviene la carne che uno mangia. Sicuramente si può partire da cose molto dirette come avete fatto nel libro e nei prossimi che riguardino i principi che ispirano una repubblica come la Costituzione o appunto l'educazione civico-fisica, nel senso che l'educazione civica è anche un modo di stare fisicalmente al mondo, di manipolare le cose del mondo, oltre che il corpo nostro stesso, in questo senso educare un nuovo rapporto con se stessi e con il mondo. Tutta questa cosa qua non può prescindere da una ricostruzione, un po' come nella lezione informale ma sapiente di Telmo all'inizio, che ti colloca in una prospettiva storica, anche in una dimensione storica, colloca la tua vita in una dimensione storica. e lì dentro tante cose risulteranno presto evaporabili, come quelli che presumono di entrare in un linguaggio diverso per colonizzarlo, ma anche stando attenti al fatto che proprio la consapevolezza storica ci dice che la capacità di chi ha forti risorse di entrare dentro una dimensione, perfino dentro TikTok, e di manipolarlo è enorme. È enorme. Anche rispetto a temi molto sensibili. Si parla poco di ambiente nella campagna elettorale, nel discorso pubblico anche al di là della contingenza elettorale. Non lo so, se ne parla per esempio in questa campagna elettorale, ma anche nella discussione che è entrata su temi molto caldi da circa un anno, tra pandemia, crisi energetica, intesa come crisi della bolletta energetica, che tocca economicamente, pesantemente, le tasche di tutti, imprese, famiglie, tutti noi. E la guerra in Ucraina che ha aggravato tutto questo. Se ne parla molto, ma se ne parla per rimuovere la questione dell'urgenza di affrontare il surriscaldamento climatico, la crisi climatica e la crisi ambientale. Tant'è vero che è stato coniato questo neologismo per parlare di chi davvero si oppone oggi in modo più insidioso al cambiamento, si parla di inazionismo, inattivismo, perché il negazionismo a fronte di quello che succede nel pianeta sembra idiota. Uno che dice che non c'è il cambiamento, che non c'è la crisi climatica, passa per un idiota oggi. è più insidiosa la posizione di chi dice che c'è e poi ti dà la ricetta che contraddice l'urgenza di agire e trasmette questo messaggio anche alle nuove generazioni. E quindi abbiamo del tempo, dilazioniamo il momento in cui prendere le decisioni forti, poi qualcosa troveremo, qualcosa si sistemerà, passerà la buriana. Questo approccio qua entra anche nel discorso pubblico ed è un discorso formativo perché punta a formare un'opinione pubblica capace di, o meglio, un'opinione pubblica incapace di cogliere la vera urgenza, le vere priorità. Di qui torna, e concludo, la questione del saper distinguere di chi ha uno spazio pubblico per parlare, che scriva, che intervenga in qualche modo comunque pubblicamente e naturalmente questo è accentuato al massimo nella sfera più delicata da questo punto di vista che è la sfera del discorso politico dove da almeno vent'anni, trent'anni, in tutto l'Occidente, in alcuni paesi e in Italia in particolare, lo sforzo fondamentale che è stato fatto è stato quello di allontanare dall'interesse la politica raccontando che non conta niente, che si decide tutto altrove, raccontando che è noiosa, raccontando tutte quelle cose che servono a tenere la gente che potrebbe quella sì irrompendo con il suo linguaggio, con i suoi bisogni, in particolare i più giovani, i più diretti, cambiare le priorità. Questo è il punto, riportare le priorità e distinguere chi le affronta in un modo e chi le affronta in un altro e chi le nega proprio. Grazie. Grazie Gianfranco Bettin. Io non sono d'accordo, sono una moderatrice, però prendo come dire, prendo la mia parte sia sul tema del dibattito di generazioni e sul fatto di impostarlo proprio sul tema di generazioni perché è vero che c'è chi ha avuto più responsabilità e chi ne ha avuto e meno ed è vero anche che ci sono le generazioni ovviamente dei boomer hanno avuto come dire il tema dello sviluppo economico di cui occuparsi cioè c'erano altre urgenze negli anni 60, 70 e anche 80 ci mancherebbe per cui nessuno sta dicendo che siete tutti responsabili il manager deve dimostrare che entro tre mesi deve avere quei risultati altrimenti così e la politica invece entro tre mesi perché tra tre mesi ci sono le elezioni perché tra tre mesi comunque farò la prossima dichiarazione perché tra tre mesi poi sarà passato in cavalleria quella cosa lì non sarà più di attualità perché poi la nostra attualità comunque dipende dall'attualità americana dall'attualità russa quindi ci sono dei temi proprio che in realtà passano in cavalleria che non rimangono magari che ritornano ma che dipendono anche da un approccio generazionale e cioè è vero che le giovani generazioni forse non hanno avuto o non hanno la possibilità di traguardare un approccio più di lungo termine ma perché in realtà le generazioni passate hanno avuto un approccio veramente molto molto stretto ed è sempre più stretto ed è sempre più stringente questa cosa per cui il risultato sul clima bisogna averlo in tre mesi la questione del gas è un'emergenza oggi ed è tutto emergenze e fare un discorso in realtà che traguardi un anno o due anni in realtà è meno popolare è meno immediato è meno efficace perché a chi interessa poi alla fine la questione di vedere cosa succede tra due o tre anni a me interessa non pagare domani quest'inverno la bolletta che sarà disastrosa ed è un po' in questo senso le responsabilità poi dopo chiaro che Cefis i grandi imprenditori italiani hanno avuto più responsabilità ma non è tanto il fatto di dire le generazioni che hanno inquinato di più e ci sono ovviamente delle diverse responsabilità però è anche un po' cambiare punto di vista allargare e allungare secondo me le nuove generazioni hanno portato questa capacità in questo senso diciamo abbiamo intavolato questo dibattito adesso ti lascio rispondere perché no no ma sono non devi convincermi sono d'accordo sul fatto che le in particolare le ultimissime generazioni ci sono state generazioni per esempio quella precedente alla nostra dei boomer non la vostra che è successiva molto successiva non a caso chiamata la silent generation quella prima dei boomers cosiddetta quella nata diciamo negli anni 40 quelli che sono beccati la guerra che sono beccati il lavoro per rilanciare per la ricostruzione quella di mio padre dei nostri padri sostanzialmente generazione ammutolita che non ha avuto la possibilità che ha lavorato che ha faticato dentro ognuna ce ne sono io penso che quello che diceva lei prima lo generalizzo un po' cioè il tema di trovare il punto in comune intersezionale diciamo così anche attorno a questo nodo che è poi quello che succede nella realtà quali sono le due voci più forti che si sentono da qualche anno sul tema del clima dell'ambiente in generale una è una voce giovanissima quella di Greta ma anche Vanessa Nakate quella generazione lì e l'altra quella del papa un vegliardo uno ha più di 80 anni gli altri sono adolescenti in mezzo c'è tutta una varietà di altre voci che per fortuna convergono attorno a questo con il centro vero secondo il vero motore della consapevolezza e del cambiamento che è la comunità scientifica e non a caso sia il papa che Greta per semplifico dicono noi parliamo e rilanciamo quello che dice la comunità scientifica sul clima sull'ambiente è da lì che sono venuti i primi allarmi la prima critica al modello Rachel Carson i primi che hanno studiato le prime forme di accumulo della CO2 ancora negli anni 50 anche prima in realtà ma un po' più rilevante negli anni 60 la Carson e altri il club di Roma all'inizio degli anni 70 è la comunità scientifica che lancia ed è una comunità di adulti prevalentemente però ad essa hanno fatto da subito riferimento i movimenti ambientalisti dove come dicevi la componente giovanile di ogni generazione ha avuto maggior protagonismo come vediamo anche adesso però la cosa bella la cosa importante che apre alla speranza a me la parola speranza sembra ingannevole la uso poco ma per capirci apre alla speranza una speranza progettuale come diceva Thomas Maldonado in un saggio straordinario degli anni 70 ancora è proprio questo intrecciarsi di voci di generazioni attorno a questa grande priorità e poi è il fatto che nessuno la potrà cancellare possono menarla provare a raccontare balle ma ogni giorno la realtà ci replica per quello nell'interventino sul giornale scrivevo un po' provocatoriamente come anche in un libro appena uscito da poco uscito che l'antropocene è finita cioè l'età del trionfo e dei guasti inflitti dal genere umano in modo così pervasivo al pianeta è finita perché la reazione del pianeta costringe noi a inseguire quello che succede quindi a perseguire politiche di adattamento più o meno tempestive è vero superando la sindrome dei tre mesi quello è fondamentale più o meno efficaci e quindi attorno a questa dinamica nuova che il pianeta ha innescato retroagendo su quello che abbiamo fatto noi può produrre un salto una svolta la svolta può produrre quello e lì tutte le generazioni compresenti sul pianeta in questo momento storico sono chiamate a fare la propria parte e per fortuna una buona parte fa la propria parte grazie grazie Bettini Thelmo ci vuoi chiusare un pochino le cose che hai ascoltato che dici devo dire sono molto d'accordo con il tipo di analisi di Gianfranco non è la prima volta io sono controcorrente io i politici sbarcati su TikTok non li ho visti e non li guarderò perché la cosa che io penso in realtà è che in realtà Berlusconi abbia fallito invece tu pensi che però sono 7000 follower mi spiace ma sono molto pochi no sì sì no lo sono ma li ha comprati sicuramente ma io non li guardo per una ragione piuttosto radicale perché ma lo ripeto sono in estrema minoranza penso che dobbiamo alzare l'asticella della decenza in questo paese mi vergogno per loro no e siccome mi vergogno per loro mi spiace e quindi proprio mi spiace mio papà che ha fatto politica per tanti anni diceva che la cosa peggiore che può succedere a un politico è rendersi ridicolo perché è un uomo pubblico è una donna pubblica ha delle responsabilità collettive ok quindi non è uno scherzo però so di essere in totale minoranza da questo punto di vista perché il mondo è andato avanti lo spero naturalmente poi sono d'accordissimo con Gianfranco quindi non mi limito a chiusare a sottolinearlo i negazionisti climatici sono scomparsi misteriosamente perché si sono evoluti sono diventati inventori diversivi ma se voi controllate le biografie è facile sono gli stessi di prima ok sono sempre loro no i negazionisti inventori diversivi i trucchi diciamoceli uno è l'emergentismo no cioè fingersi fingere di stupirsi oddio il po' in secca come oddio il po' in secca la società meteorologica italiana all'inizio di marzo aveva fatto il calco e ha detto guardate sulla base delle precipitazioni nevose eccetera alla metà di maggio il po' è in secca fingere di stupirsi quindi indennizi quindi è una calamità come una calamità una calamità i romani la calamità cos'era qualcosa di ineluttabile di imprevedibile non potevi farci niente no non è una calamità non è un'emergenza è la normalità di un mondo nuovo se parassimo a cambiare questo tipo di semantica già sarebbe un modo per rispondere a questo a questo trucco un altro trucco molto di grande successo nel nostro paese è ma no troveremo una tecnologia miracolistica che ci tirerà fuori dai guai ok il nucleare per esempio possiamo tutti essere di fare tutte le valutazioni che possiamo essendo laici c'è un mio amico fisico di Padova molto simpatico che ha detto nucleare e pulito devono conoscere una legge della fisica a me ignota ed è uno dei più grandi fisici di Padova ok perché giustamente cosa dice dice se sono in Francia è un conto se sono in Italia devo ricominciare da capo è un altro conto quindi ecco oppure la geoingegneria che purtroppo sta prendendo piede anche tra qualche mio collega cioè bombarderemo le nuvole faremo dei grandi specchi in modo da aumentare l'albedo terrestre quindi la riflessione del sole faremo ecco ma sapete e questo però è veramente molto drammatico proprio lo sto lo sto vedendo adesso uscendo dalla pandemia perché il mio punto di vista è quello della comunità scientifica quindi parlo con loro vedo l'atteggiamento e sto notando due evoluzioni molto preoccupanti una è una radicalizzazione fortissima nel senso i miei colleghi scienziati molti sono ormai arrabbiatissimi se voi leggete gli ultimi numeri di Nature e Science e di Lancet che sono delle normalmente sono sempre state delle paludatissime riviste scientifiche non hanno mai preso posizioni politiche perché loro sono Nature e Science adesso leggete ogni settimana Lancet sembrano i bollettini del WWF di Greenpeace di vent'anni fa sono incazzati neri perché non li ascolta nessuno i parametri sono sempre più negativi alla fine hanno alzato i toni come non era mai successo prima Nature è uscito con un pezzo che ha fatto molto discutere dicendo guardate il disastro che sarà se in Francia vince la Le Pen cosa che era un'eresia fino a vi assicuro fino a qualche anno fa questo per dirvi come sono cambiate in modo totalmente imprevedibile non sarebbe mai successo prima l'appello dei scienziati sul che ma proprio il tono diciamo di fortissima radicalizzazione l'altro evoluzione che mi preoccupa molto alcuni miei colleghi che prima non avevano questa posizione sono diventati così pessimisti che me lo dicono nei convegni mi guarda bravo ti vogliamo bene che ancora ci credi che riuscirai a convincere qualcuno secondo noi non c'è più nessuna speranza ne usciremo fuori con delle soluzioni tecnologiche che toccherà di nuovo a noi inventarci che è un atteggiamento molto discutibile ok è molto pericoloso però è frutto vi assicuro di quello che sta succedendo nella comunità scientifica che si sta come dire radicalizzando sul fatto che questi dati sono estremamente negativi e aggiungo solo questo utilizzavo subito la parola l'incapacità di ascoltare le previsioni io penso che sia molto veramente molto preoccupante no la pandemia era stata prevista l'abbiamo raccontato nella fabbrica del mondo la siccità tutto quello che sta succedendo adesso era contenuto dentro dei modelli di cui parliamo da 40 anni e la cosa che preoccupa in tanti che noi facevamo sempre fatti gli scenari cosa succede se adesso siamo dentro lo scenario peggiore cioè siamo dentro uno scenario che è peggiore delle previsioni medie che si facevano e quindi questo è diciamo il tema di grande preoccupazione che c'è nella comunità scientifica e ha bisogno di una radicalità critica di analisi come quella che suggeriva adesso secondo me Gianfranco sì però poi comunque appunto i colleghi negazionisti e così spostano il problema e poi chi se ne deve occupare è ovviamente le nuove generazioni e qui ritorniamo al tema del dibattito non ci posso credere che tu hai sempre una domanda pronta ah pure no perché lui qua da ieri fermo in realtà con la mano al salta è assolutamente no vabbè allora ovviamente open questions quindi chi vuole intervenire assolutamente e quindi se se vuoi dire la tua ti hai portato il microfono ok così almeno vediamo un po' se ci sono delle domande grazie io volevo riallacciarmi a cosa diceva il signor termo all'inizio per dare la risposta al bambino che è la domanda che ha fatto la signorina di fianco nel senso la capacità di trasmettere il sapere senza condizionamento il padre aveva il sapere l'ha trasmesso al figlio incondizionatamente riuscito a creare la macchina perché non aveva il retaggio del passato del vissuto del padre che è quello che dovremmo riuscire a fare noi con le generazioni future trasmettere le nostre conoscenze senza il nostro retaggio sogni mostruosamente proibiti mi ricordo che era un film che titolava così c'è qualche altra domanda? sì? adesso mettiamo insieme le domande e poi rispondiamo sì io credo da persona vicina chiaramente a questi temi che manchi vabbè la politica lo sappiamo che può e non può fornire dei modelli anche per l'ecologia o fare delle leggi radicali a cui le persone poi sono obbligate a rispondere ma credo che anche delle associazioni non necessariamente politiche possano fornire dei modelli per noi consumatori delle linee guida perché il singolo ha un approccio che è molto relativo si informa in un certo modo che è molto relativo io posso seguire te però come faccio tra l'altro però tutti questi stimoli per me che comunque sono una persona profana rispetto a questi temi per quanto io voglia mi rendo conto che rischiano di vanificarsi e invece credo che manchi un modello o anche un insieme di associazioni di persone che si uniscano e forniscano delle linee guida molto forti e molto semplici almeno io non riesco a trovarlo non avete parlato però potrebbe essere una cosa interessante secondo me in modo che noi riusciamo anche a trasmetterlo ai nostri figli magari forse no perché lo sapranno meglio di noi ma non è detto però a chi abbiamo vicino e che è un po' più scettico rispetto a noi sicuramente quindi questo secondo me potrebbe essere importante grazie infatti questo è molto importante le linee guida di cui parli tu dovrebbero essere una cosa assolutamente normale a livello istituzionale invece il lavoro che faccio io nasce dal fatto che la domanda che mi viene rivolta più spesso è io vorrei avere una vita più sostenibile non ho idea di come fare di dove cominciare cioè nessuno ce l'ha mai insegnato nessuno ci ha mai educato alla sostenibilità non è mai stato qualcosa che era una priorità la priorità nel mondo di oggi è formarsi e lavorare e questo è tutto quello attorno a cui gira il nostro mondo tu prima hai detto noi siamo dei consumatori noi siamo dei consumatori e ci siamo dimenticati che invece siamo dei cittadini che vivono in un mondo e la politica e le istituzioni dovrebbero occuparsi del bene comune e questo è un argomento estremamente politico perché chi si occupa del bene comune è chi ha sempre parlato di bene comune e non solo di lavorare produrre consumare perché il nostro mondo gira tutto attorno a quello è ovvio anche che nel momento in cui siamo cresciuti in questo modo e non conosciamo un altro paradigma un altro modo di vivere è difficilissimo dire io come singolo cosa faccio e tu dovresti essere aiutato a livello istituzionale a cambiare ma ovviamente è l'intero sistema alla base che deve cambiare un paradigma che ha una fine e continuiamo a far finta che non lo avrà e anche il discorso politico che facevamo prima le generazioni che continuano a votare chi ha avuto la sua gloria negli anni 90 e io mi ricordo io mi ricordo i miei anni 90 in una famiglia borghese sono benissimo io ci credo che ci sono delle persone che a cui mancano quegli anni 90 e li vorrebbero rivivere ma noi stiamo vivendo un altro momento storico e questa cosa non riusciamo a capirla noi siamo figli del nostro tempo e se abbiamo vissuto nella bambagia nella crescita nel bene adesso non sono più quei tempi noi siamo in un pianeta finito che sta finendo le risorse e la nostra i servizi ecosistemici che stiamo distruggendo da anni e quindi va cambiata bisogna dare voce bisogna votare chi veramente si occupa di bene comune ma a livello di terra e a livello di tutto quello che è vita oltre di noi sì abbiamo bisogno di istituzioni che si prendano carico di questo è anche un po' frustrante possiamo provarci anche in un altro modo dico perché la politica secondo me non potrà mai battuare mettere in campo certe leggi perché comunque deve gestire anche le industrie la plastica io lavoro con le aziende quindi so quello di cui parlo per cui in parallelo potrebbe esserci qualche perché davvero io anche andando in Instagram sono comunque una folitrice dell'online eccetera ma quello che dici tu per dire altre persone che sono vicine cioè spesso c'è anche una contraddizione in termini io avevo tre in chimica capito non è che posso comprendere cioè è molto importante invece perché credo che anche noi che ci crediamo possiamo trasmettere delle cose un po' più semplici non dico semplificate anche i nostri figli sì assolutamente e poi dobbiamo ricordarci che appunto la conversazione intorno al singolo che deve fare del proprio meglio e può cambiare il mondo è importante ma può essere un'arma a doppio taglio e può essere tossica perché non è vero che ognuno di noi se fa il meglio a casa propria allora cambia il mondo no abbiamo bisogno di un asset legislativo importante per farlo questa è un'altra è un'altra strategia di comunicazione che ti tiene impegnato a subbarcarti i mali del mondo infatti c'è un sacco di gente che soffre di ecoansia ed è il nuovo male perché non abbiamo una prospettiva futura Greta ha cominciato a fare quel che faceva perché si metteva davanti al Parlamento svedese dicendo perché devo andare a scuola perché devo andare all'università laurearmi fare una famiglia trovarmi un lavoro se non ho un futuro la crisi climatica ci dà 8 anni per raggiungere il punto di non ritorno perché devo fare questa cosa e noi siamo la prima specie che si trova davanti al ah non ho un futuro non ho programmazione che cosa ne sarà di me e come fai a vivere la vita così è pesante quindi abbiamo bisogno assolutamente non di sobbarcarci i mali del mondo e dire io con i miei acquisti di consumatore consapevole cambierò ma io insieme a tutti chiedendo delle cose forse riuscirò a farlo e ti faccio un esempio ci pensavo l'altro giorno mentre camminavo per Firenze che è la città dove vivo ed è terribile perché tu cammini per Firenze e non c'è uno spazio pubblico tutto lo spazio attorno a te è privato ed è stato preso da franchising di fast fashion negozi di souvenir bancarelle maleodoranti di pelle e ogni spazio intorno a te è stato privatizzato e vuole i tuoi soldi non c'è uno spazio pubblico è una cosa terrificante e io ho pensato pensa a tutte quelle persone che pensano che entrando da H&M comprando un capo della collezione Conscious H&M puro greenwashing stanno cambiando il mondo non è vero non è vero tu devi fare gruppo nella tua città a livello territoriale e chiedere delle modifiche così riuscirai a cambiare il mondo non acquistando delle cose green è un'illusione enorme di cui siamo tutti vittima in questo momento volevo solo ringraziarvi per gli spunti io mi occupo di comunicazione in particolare comunicazione ambientale quindi stasera mi porterò una cosa torniamo intorno a Focolare li mettiamo tutte le generazioni intorno a Focolare e dobbiamo trovare una narrativa una narrazione che sia in grado di coinvolgerle tutti cercherò di pensare a questo l'altra cosa sui temi ambientali è che io lo suggerisco sempre secondo me dobbiamo unire i temi ambientali a quelli economici e a quelli sociali cioè se noi lasciamo l'ambiente sempre a un tema etico lo rileghiamo lì come abbiamo fatto come ha fatto tanti ambientalisti per ora rimane una bella favola non fa presa se uniamo questo a un tema a un tema appunto economico e sociale perché la crisi climatica crea povertà crea emigrazione e quindi per noi emigrazione per ora poi vedremo noi cosa faremo per le prossime generazioni e ci è un tema anche economico quindi dobbiamo unire queste tematiche essere capaci di trovare un modo di raccontarle bene in maniera semplice a tutti ma questo è io l'ho fatto anche in azienda in azienda se lo facciamo partiamo dal punto di vista etico non si muove nessuno se partiamo dal punto di vista economico tutti sull'attenti e l'altra cosa poi è portare e guardare poi abbiamo bisogno anche probabilmente di una parte sociologica di cercare di educarci a guardare più avanti abbiamo visto anche col covid per noi col covid era difficile addirittura pensare di fare scorta di mascherine c'è una roba elementare e invece dobbiamo guardare avanti cosa potrebbe succedere cosa devo fare io per nel caso in cui succedesse questo è una cosa che non siamo assolutamente abituati a fare come esseri umani è la sfida che abbiamo davanti secondo me grazie a tutti dico l'ultima cosa poi le lascio mano a loro parlando di comunicazione vediamo anche come termini parole come ambientalista animalista siano molto state usate soprattutto quest'estate giovanotti ha parlato di ecco fascisti nazi vegani cose del genere facciamo attenzione anche come prendiamo queste parole abbiamo inventato delle parole per definire le persone che hanno a cuore il pianeta in cui vivono abbiamo inventato le parole per definire delle persone che vogliono avere rispetto delle altre specie che condividono il pianeta con noi e le abbiamo usate contro queste persone perché se fanno qualcosa in quella direzione è un problema quindi anche a livello di comunicazione facciamo anche attenzione a quello che leggiamo e cerchiamo di decostruirlo e di farci un'idea nostra e per quanto riguarda le aziende anch'io che lavoro e faccio formazione alle aziende la vedo che è difficilissima questa cosa ma non mi sento neanche di dover dare la colpa a loro perché loro sono lì a lavorare e fanno capo a un paradigma faccio un esempio riflettevo su Ikea l'altro giorno Ikea è il più grande utilizzatore di legname al mondo di sbosca è l'azienda che più di sbosca legno al mondo per fare cosa mobili di fast furniture che sono trucciolato misto colle a basso costo che finiscono nelle case di tutti e che persone normali che stanno diventando sempre più povere non possono che permettersi non possono permettersi altro Ikea sta lavorando tantissimo sulla sua comunicazione green e sostenibili entri in uno store di Ikea e ti sembra di entrare in una foresta norvegese però quello che continua a fare tra l'altro nel membro loro dicono che hanno tutto il legno certificato FSC nel CDA della certificazione FSC c'è anche Ikea così due parole e stanno puntando alle foreste primarie che sono rimaste in Europa perché loro devono mandarlo avanti questo business allora un'azienda che si dice veramente sostenibile secondo me dovrebbe partire col dire io non apro più store ne ho già 500 in giro per il mondo io non ne apro più e cerco di migliorare tutti i business model insomma il business model e il processo aziendale per renderlo il più sostenibile possibile cerco di non continuare a perpetuare questo paradigma di crescita infinita perché comunque arriverà arriverò al punto in cui io il legname non ce l'avrò più e che cosa mi inventerò esattamente però questo Ikea non lo può fare perché fa capo a un paradigma di crescita infinita se lui non apre uno store là lo fa un'altra azienda e quindi lì vanno date dobbiamo chiedere alle istituzioni delle leggi che regolamentino la crescita perché noi anche come persone abbiamo sempre vissuto nel mito della crescita che è diverso dall'essere delle persone con delle aspirazioni ambiziose quello va bene ma la cosa dell'essere sempre il migliore di avere il voto migliore la casa migliore la casa più grande la fidanzata più bella questa cosa di un limite che non c'è mai e questa crescita infinita è insitta dentro di noi e in tutti i processi sociali ed economici che conosciamo e quella va rivista va proprio rivista noi viviamo in un pianeta finito che ha dei limiti matematici fisici e noi siamo delle persone che devono avere dei limiti e onorare e rispettare i propri limiti perché noi come andare oltre senza mai fermarci mai questo ci farà schiantare ultimissima cosa chi scusate perché poi quando prendo vado ultimissima cosa a livello politico chi continua a dirci che noi possiamo vivere come abbiamo vissuto nel mito della crescita infinita saranno le persone che ci porteranno a uno schianto vi faccio un esempio su un tema che affronto sempre che è quello degli allevamenti abbiamo più di 220 mila allevamenti in Italia la maggior parte intensivi solo nel luglio di quest'anno abbiamo dato a questi allevamenti in generale 144 più 88 milioni di euro per tenerli in piedi perché continuiamo a usare la maggior parte delle risorse di questo pianeta per abbeverare nutrire tenere questi animali in vita nutrire animali di cui noi a nostra volta ci nutriremo una cosa che potremo ridurre e tranquillamente fare a meno ecco perché questi soldi non li usiamo per aiutare gli allevatori a passare a un altro tipo di reddito agricolo perché fare finta che li stiamo aiutando quando arriverà il momento in cui davvero non potranno più lavorare si schianteranno e nessuno gli avrà fatto fare una transizione nessuno gli avrà dato un piano B lì veramente ci sarà da piangere e saremo sempre alla ricerca del colpevole ma non è vero cioè la transizione va fatta adesso richiede un cambio di mindset di cose e tutte le cose di cui possiamo fare a meno possono iniziare a transitare ovviamente non sono processi facili non succedono dal giorno alla notte però vanno iniziati e vanno iniziati ora che è già troppo tardi perché per 30 anni abbiamo detto che occuparci del pianeta in cui viviamo non era una priorità tra l'altro credo che Alice abbia fatto un intervento che ti piace Marco Paolini visto che diciamo il tuo lavoro numero uno è fare il falegname in realtà la passione del legno prima che addirittura quella c'è qualche altra domanda volevo solo dire che concordo pienamente con quello che ha detto il signore lì secondo me in tutto questo bellissimo dibattito veramente molto bello molto piacevole interessante si è sottolineato troppo poco l'aspetto politico e io uso la parola politica nella recezione più alta cioè quello che lei ha appena detto non può essere fatto se non c'è un un progetto politico che va oltre il concetto dei tre mesi ma per come noi cittadini tutti perché qua ci mettiamo in mezzo non consumatori esatto cittadini cittadini tutti comunque non consideriamo quando poi andiamo a votare non lo consideriamo e le nuove generazioni mi permetto di dire la prima cosa che dovrebbero fare se vogliono realmente cambiare qualcosa a livello ambientale è lavorare sulla politica perché è solo lì che il paradigma complessivo economia ambiente politica trova la giusta interconnessione se no non si cambierà mai niente ci riempiremo la bocca andremo a casa tranquilli però domani è preciso cioè così è nessuna altra domanda possiamo adesso c'è Michela signore che mi fa segno in realtà il dibattito credo è stato interessante insomma sono quasi le otto quindi poi in realtà ecco non si dica che occuparsi di ambiente e diritti nell'ambiente non sia occuparsi di diritti civici perché poi stasera in realtà ci occuperemo anche di questo in realtà ci occuperemo della parte più sociale del dialogo tra le generazioni perché abbiamo un appuntamento con mamma di merda che presenta il loro libro e loro sono mamme ma sono le principali in realtà responsabili del dialogo con le nuovissime generazioni ma parleremo questa volta dei diritti forse più delle madri che dei figli io ringrazio Maria Scoglio per essere venuta tra l'altro ho avuto anche un piccolo incidente arrivando in treno per cui a questo cerotto così è stato autoprodotto in stazione quindi grazie per essere stata con noi Gianfranco Bettin grazie mille ovviamente Telmo Pievani e Alice Pomiato e quindi vi do appuntamento tra un'oretta grazie di essere stati insieme a noi anche oggi grazie